Fiducia ai ricavi nel terziario in calo in Friuli Venezia Giulia con una situazione diversificata tra commercio al dettaglio in difficoltà e turismo invece in buona salute. E la fotografia scattata dall'indagine congiunturale sul terzo trimestre di Confcommercio Friuli Venezia Giulia realizzata in collaborazione con Format Research. Il saldo delle imprese del terziario è negativo in tutte le province, fatta eccezione per Pordenone più 10%, mentre Gorizia segna un meno 9%, Trieste meno 34%, Udine meno 96%. Evidente il contributo negativo del commercio specialmente al dettaglio. Il settore paga una pressione fiscale troppo elevata, una burocrazia sfissiante che frenano oltre ai consumi anche la propensione all'innovazione, commenta il presidente regionale di Confcommercio Giovanni D'Apozzo. Negli ultimi due anni, dice l'indagine, si è registrato un calo del numero di operatori del commercio al dettaglio pari a meno 1,5%, un dato analogo a quello nazionale. Dall'altra parte spiccano le performance delle imprese del turismo, che costituiscono l'unico comparto a reggere l'urto del fenomeno della desertificazione delle imprese negli ultimi 24 mesi. Gli operatori della ristorazione delle strutture ricettive regionali fanno rilevare un segno più in termini di imprese attive sul territorio e sono cresciute del 10% nell'ultimo decennio.